La politica è un insieme di cose e di persone che condizionano il nostro tempo. I politici ci impongono ciò che è giusto e ciò che è sbagliato, appartengono a tutti noi. Siamo noi a sceglierli. La realtà cambia e si modifica. Saremo attenti perché alcune scelte si legano a noi automaticamente. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Buonasera a tutti, ben ritrovati con il terzo appuntamento di Verità. Dopo esserci occupati anche di Zuccherificio e Solagrital ci fermiamo, ma non troppo, con le inchieste regionali. Le riprenderemo da lunedì prossimo perché era davvero toccante e quindi abbiamo voluto approfondirla meglio, la tangenziale nord, che veramente abbiamo trovato un po' di tutto, quindi i nostri anche consulenti e avvocati la stanno valutando attentamente per la prossima settimana. Insomma, capitavano queste primarie nel mezzo e quindi non potevamo farne a meno. Une primarie che hanno davvero coinvolto tutti. Dobbiamo dire per una volta il risultato più importante riguarda l'affluenza perché la gente è andata in strada, si è voluta esprimere, forse volevano andare anche un po' di più a votare, alcune regole lo hanno impedito. Certo è che insomma il centrosinistra ha sciolto le sue riserve, sarà Bersani il candidato premier, dovrà mettere su questa coalizione ma ne escono davvero alla grande sia Renzi che Vendola con grossissimi risultati. Non sono mancate le polemiche, non sono mancati ovviamente i colpi di coda anche a livello nazionale e perché no a livello regionale, tant'è che Danilo Leva insomma non se l'è sentita questa sera di essere tra noi, sicuramente ci ha detto che c'è una causa importante, quindi per fortuna i politici capiscono che fanno anche un mestiere e si sa con la riduzione dei consigli regionali meglio uno che torna a fare anche il mestiere originale perché il posto sarà sicuramente per pochi fra qualche mese. Quindi bravo a Danilo Leva che ha rinunciato a questa trasmissione, speriamo che non deve ricorrere al ballottaggio per la causa di domani perché le udienze sono tante, quindi dovrà studiare attentamente, lì facciamo un grosso in bocca al lupo. Ma come detto le primarie del PD dovevano servire, serviranno da qui in avanti a costruire una coalizione, a costruire un gruppo, tanti gruppi di centro si aspettano ovviamente di passare da una parte all'altra, bisognerà vedere i programmi, bisognerà vedere gli accordi, insomma si apre davvero un momento particolare per la politica nazionale ancora di più a livello regionale per noi perché ci saranno appunto le elezioni quindi faremo anche qui una piccola inchiesta, una piccola disamina su quello che avete pensato voi perché abbiamo intervistato la gente, sui dati nazionali e regionali e come sempre non mancheranno tantissime sorprese. Abbiamo tanti ospiti, dopo avremo anche un collegamento diretto, anche quello che abbiamo voluto proprio in questo programma, ci sposteremo in Riva all'Adriatico e avremo anche un altro ospite. Vi presento però quelli che sono a Campobasso. Cominciamo con Teresio Di Pietro, segretario dell'Udc. Buonasera. Buonasera. Andiamo avanti, Michaela Fanelli, sempre del PD, Comitato Pro Renzi. Buonasera, grazie, salutiamo i bambini che sono a casa, che anche questa sera purtroppo abbiamo dovuto sottrarre per la politica. Sono molto contenta di essere con voi, quindi grazie a voi. Sono in ottima compagnia, li salutiamo. Tra un Di Pietro all'altro, da Montenero a Montenero, però sicuramente con un partito diverso. Il partito è l'Italia dei Valori. Buonasera a Cristiano Di Pietro. Si fa confusione col cognome a Montenero, perché lo schieramento è talmente diverso. Per ora. Per ora, vero? Io questo volevo, mi ha anticipato la domanda. Andiamo da quest'altra parte, continuiamo con le presentazioni. Io dico sempre, ho voluto fortemente anche la presenza di un ex sindacalista, importantissimo, della CGL. Aggiungo io e mi prendo la responsabilità. Quando il sindacato faceva davvero sindacato, perché negli ultimi anni davvero pochi, insomma, il sindacato, non la CGL, ovviamente io parlo a livello generale, ne sentiamo anche a livello nazionale di tutti i colori. Buonasera al professor Silvio Arcolesti, ex segretario della CGL. No, andiamo da quest'altra parte con l'inquadratura. Silvio Arcolesti, che è rifondazione comunista, non ha partecipato alla primaria, però sicuramente sarà stato molto attento. Buonasera. Altro ex segretario della CGL, però ormai da tempo in consiglio regionale, lo ringrazio perché anche lui oggi è acciaccato, però veramente quando le persone mantengono gli impegni, io lo dico proprio davanti alle telecapere. Buonasera, Michele Petraroia, Comitato Bersani, è una parolone se dico così. No, sono sempre stato con Bersani, non ho nulla da rimproverarmi al riguardo. Va benissimo. E che rimproverare? Poi alla fine Bersani ha vinto, quindi andiamo avanti. Collabora veramente a 364 in un centro-sinistra allargato. Buonasera a Nico Ioffredi, Comitato Vendola, che insomma è stato fuori all'ultimo turno, ma nel primo turno ha ottenuto un ottimo risultato. Bersani, le prime parole che ha detto, ringrazio Vendola. Ha fatto bene. Ha fatto bene, lo si è buttato avanti. No, non credo, no, no, non credo, non credo. No, credo che sia stato sincero, non penso che sia stata una manovrina, non credo. D'accordo. E allora abbiamo presentato gli ospiti, noi abbiamo sempre tante schede, quindi prima di andentrarci nei ragionamenti io partirei col primo servizio. Quindi ci andiamo a vedere un po' il dato nazionale, quindi del PD, vediamo cosa è successo. Chi temeva un inquinamento delle primarie con la partecipazione al voto dei fedelissimi dell'ex premier Silvio Berlusconi è rimasto deluso. L'affluenza, infatti, è calata rispetto al primo turno. Se al primo turno erano stati in 3.200.000 recarsi nei gazebo allestiti per l'occasione, al balottaggio tra il vincitore Bersani e lo sfidante Renzi si sono registrate 700.000 presenze in meno. Gli elettori di centrosinistra hanno premiato Pierluigi Bersani, segretario nazionale del Partito Democratico, che ha raccolto il 61,1% dei consensi. Il sindaco di Firenze, che ha ammesso di aver commesso alcuni errori, si è fermato alla 38,9%. Bersani ha convinto gli elettori del centrosinistra in tutte le regioni, ottenendo ovunque il primato. L'unica regione dove Renzi è riuscito a reggere è stata la sua Toscana, che ha premiato il sindaco di Firenze con il 55% delle preferenze. Basilicata, Calabria, Puglia e Sardegna sono le regioni nelle quali Bersani ha ottenuto risultati da capogiro, avendo superato il 70% dei consensi, 73% in Basilicata, 75% in Calabria, 71% in Puglia e 73% in Sardegna. Bersani è andato vicino al 70% anche in Campania con il 69% dei suffraggi, in Sicilia e nel Lazio con il 67%. Il candidato premier del centrosinistra ha ottenuto un numero importante di consensi anche in Molise, con il 63% delle preferenze, in Abruzzo con il 62% e in Liguria con il 65%, ma anche in Emilia, Friuli e Lombardia con il 61%, in Trentino con il 60%, in Veneto con il 59% e in Piemonte con il 57%. Bersani è stato premiato ma con risultati più normali anche nelle Marche e in Valle d'Aosta, dove si è fermato al 54% e in Umbria con il 52% dei consensi. Come detto, Renzi ha prevalso solo nella sua Toscana con il 55% dei voti. Bersani dunque si è fermato al 45 elettori su 100. Da notare che nemmeno a Firenze, dove Matteo Renzi è sindaco, c'è stato un netto successo del giovane politico ha fermatosi al 56%. Appena 6.800 voti lo scarto tra Bersani e Renzi nella città amministrata da quest'ultimo. Le primarie dunque hanno premiato Bersani, che ormai è già proiettato alla lotta per il vertice di Palazzo Chigi. Ci siamo visti quindi il primo servizio. Io parto da chi è stato all'esterno in questa fase, quindi con Teresio Di Pietro. Sbaglio se dico il dato più importante che forse nessuno si immaginava alla vigilia, è stata proprio l'affluenza. 3 milioni di italiani sono andati a votare. Il rischio era proprio quello, di fare un figurone negativo con la gente che ormai stanca da tutte queste disattese e poteva prenderla sotto gamba. Io ho accettato volentieri l'invito di essere presente, nonostante vengo catapultato in questo momento proprio da Roma, ma sono ancora rientrato, in una trasmissione in cui fungo quasi da osservatore, ma non osservatore dell'Uno o dell'altro, da osservatore neutrale per quanto riguarda questo discorso, nella maniera più assoluta. Voglio dire che indubbiamente il dato dell'affluenza è un dato significativo, però se torniamo un po' indietro per chi segue un po' le vicende politiche, possiamo dire che le precedenti consultazioni di primarie hanno avuto dei dati molto più alti, però c'è anche il rovescio della medaglia in cui si dice che in questo momento siamo in una fase di disaffezione dalla politica e quindi portare tanta gente a votare è stato un grosso successo. Allora a questo punto di vista mi sorge una domanda spontanea. C'è tanta voglia di tornare a fare politica, c'è tanta voglia di scegliere i propri leader e allora di fronte a un fatto del genere pensare che la gente fa la fila per andare alle primarie per scegliere, non idealmente, per scegliere di fatto chi possa rappresentare o un rammarico quando poi penso che si potrebbe tornare a votare col Porcello. Si potrebbe votare a Porcello e quindi questa voglia di scegliere i propri elettori verrebbe vanificata da una legge elettorale in cui nelle segrete stanze, in 5, in 6, in 7 di tutti i partiti decidono le sorti di chi dovrà essere designate a rappresentarle nel senso del Parlamento. Quindi benvenga questa forma di ritorno alla politica, però questo ritorno alla politica se scegliamo i leader di un partito perché poi d'altronde le primarie vengono fatte con regole proprie di determinati partiti, il nostro non è come l'America, l'unico posto in cui viene argomentato in maniera netta le primarie e in America, poi in altre nazioni si fa come meglio si può, però benvenga questo ritorno, però nello stesso tempo pensare che c'è un ritorno a riappropriarsi di un ruolo e pensare che potremmo tornare a votare con il Porcellum. Se parliamo di legge elettorale, il 21 dicembre poi alla fine scade, bisogna fare in fretta. Il 21 dicembre c'è anche una provincia dei Mai che potrebbe finire il mondo, quindi possiamo dire che andremmo anche nel tirare di questo. Forse è più facile che finisce il mondo e no che si fa la legge elettorale. Però voglio dire che sotto questo profilo, io lo giudico come una grossa vittoria, l'idea che le persone possono esprimere il proprio voto, però se si può esprimere per le primarie non vedo perché la stessa gente non possa designare, non designare, non possa votare chi lo deve rappresentare nel Parlamento. Io vedo già che è pronto il collegamento con Termoli, quindi diamo il benvenuto anche, ci mancava la parte socialista, candidato poi nel listino maggioritario del centrosinistra, Oreste Campopiano con Giovanni Cannarsa. Ci andiamo a Termoli? Siamo proprio a casa di uno studio legale dell'Avvocato Resto Campopiano, come dicevi tu, che ringraziamo per l'ospitalità e al quale prima di salutarlo cederei anche la parola per un primo commento su quello che sentivamo dallo studio centrale. Io ho sentito l'intervento di Teresio Di Pietro sui dati riferiti all'affluenza e sulla volontà dell'elettore italiano e del cittadino italiano di ritornare effettivamente alla partecipazione diretta. Credo che questo momento delle primarie sia stato un momento di grande partecipazione democratica e io saluto sempre con favore ogni occasione per dare al popolo la possibilità di esprimersi. Mi sembra che è stato tutto assolutamente rispettoso delle regole, 3.200.000 elettori in prima battuta, 2.600.000 circa nella votazione di ballottaggio, risultato abbastanza chiaro, poi eventualmente lo discuteremo durante la trasmissione. Ma il fatto che va sottolineato è che tanta gente oggi è ritornata finalmente a esprimere la sua volontà di partecipare direttamente alle scelte e su questo probabilmente io sarei d'accordo, anzi sono certamente d'accordo con quanto detto da Teresio Di Pietro in ordine alla necessità di modificare la legge elettorale, anche se temo che questo non accada prima delle prossime consultazioni di primavera. D'accordo, grazie a Oreste Cambiovano, quindi la sua non è stata solo un'apparizione nel listino, ha imparato molto bene i dati del centrosinistra, quindi si è ormai affiatato in questo gruppo. Io invece parlerei con Michele Petraroia, ovviamente se siamo un po' brevi, io capisco perché siete davvero in tanti, il popolo del centrosinistra ha votato il radicamento di Bersani in queste primarie? Ma intanto questo è stato un risultato straordinario del centrosinistra e vanno ringraziati tutti e cinque i competitori che si sono misurati con lealtà, con chiarezza, esponendo i propri programmi e vanno ringraziati i tre partiti politici, spesso si commette l'errore di dire che sono state le primarie del PD, sono state le primarie del PD, del Partito Socialista e di SEL e grazie alla condivisione dei cinque competitori di queste tre formazioni politiche che si è offerta ai cittadini italiani un'opportunità di buona politica e i cittadini italiani, nonostante il periodo sia diverso da quello che menzionava l'Avvocato Di Pietro rispetto a qualche anno fa, adesso ci sta quasi il 50% degli elettori come ci hanno mostrato le elezioni in Sicilia che non vanno proprio più a votare, che sono assolutamente sfiduciati, non credono più a nessuno, poi c'è una parte dell'elettorato che viene catturato da movimenti di protesta, di antipolitica, di carattere anche populista, in qualche caso di carattere eversivo e poi c'è questo sfarinamento, questo spopolamento della rappresentanza dei partiti che non aiuta e per questa ragione che reputo in questo mio primo intervento di mettere in luce il risultato positivo per il sistema democratico to cure italiano, perché avere 3 milioni e 200 mila cittadini che si mettono in fila, che si vanno a registrare, che fanno la file per ore, che pagano 2 Euro dopo quello che hanno visto in televisione, io credo che questo sia tutta salute per la democrazia italiana. Poi che all'interno delle diverse proposte sia stata scelta la proposta di Bersani, io credo più per la sua storia, perché le persone in questi 20 anni sono state bombardate da una politica dell'immagine, una politica mediatica dove il virtuale sostituiva il reale, i cittadini scegliendo Bersani hanno scelto la semplicità, la sobrietà, una persona che è partita, lo ha fatto vedere, era figlio di una persona umile che aveva una pompa di benzina, faceva il meccanico e dopo 40 anni sta lì, ha una casa, una famiglia normale, ha fatto il ministro, il presidente dell'Emilia Romagna, una persona che è più di sostanza, tant'è vero che ogni volta che va in televisione non è che ha quella capacità, non ha una battuta pronta, però ha quelle competenze e le persone probabilmente hanno immaginato di riporre in lui, nella sua proposta, l'esperanza per girare pagina nel nostro paese. D'accordo, io invece vado dal comitato Pro Renzi per chiedere a Michela Fanelli, è stato anche corretto nella chiusura Renzi, alla fine è stato apprezzatissimo, ha detto sì, ho sbagliato qualcosa, aggiungo io, forse non aver mai polemizzato con il centrodestra, con Berlusconi in questi giorni, potrebbe essere uno degli errori di Renzi oppure la Roccaforte era proprio imponente. Ma io credo che sicuramente quando si perde va riconosciuta la sconfitta e lui ha ben fatto ieri sera, toccando anche molto i cuori, con una commozione autentica a riconoscerla. Come fanno le persone che guidano una squadra nei casi di vittoria e di sconfitta si assumono le responsabilità in testa e qui noto una sostanziale differenza soprattutto con la compagine alla quale facevi riferimento il centrodestra e soprattutto in questa regione dove non c'è mai il responsabile di quello che succede in modo critico. Sono anni che non riusciamo ad avere delle responsabilità su fatti concreti per non parlare sugli andamenti macroeconomici generali. Renzi quindi è un atto di serietà, riconosce la grande e positiva vittoria del segretario Bersani a cui ha fatto immediatamente gli auguri e a lui, noi tifosi di Renzi assommiamo i nostri con un orgoglio di essere una grande famiglia, quella progressista e a essere adesso guidati da un grande candidato alla presidenza del Consiglio. Molise poi è la regione della controtendenza perché anche al primo turno Bersani e Molise è quello che ha preso un po' di meno rispetto a altre regioni. Noi siamo soddisfatti perché sembra antipatico dirlo nei momenti in cui si perde però basta riconoscere con chiarezza la vittoria dell'avversario ed essere molto contenti subito di andare unitamente sulla vittoria dell'avversario. Io personalmente ho anche una stima storica nei confronti di Bersani e ho anche giustificato una tifo per Renzi non tanto per la contrarietà assolutamente al segretario del partito ma perché il complesso delle nuove stanze, questa porta che si apre sul futuro sembrava a mio avviso rappresentare meglio la priorità di cui in particolare questa regione ha bisogno. Fra le varie proposte dei candidati infatti quello che ho cercato di spiegare in queste elezioni primarie è che ognuno di noi vede nei valori della persona che ha scelto per cui fare il tifo una scala di priorità. Tutte fanno riferimento alla carta dei valori del bene comune e quindi nei diritti fondamentali dall'essere della parte più deboli, la centralità della scuola, il riconoscere l'articolo 3 secondo comma della Costituzione cioè l'uguaglianza sostanziale come missione fondamentale del centro-sinistra, l'insieme delle tematiche che attengono ai beni comuni, i diritti civili, ecco su questi temi c'eravamo tutti. Poi ognuno ha declinato in modo molto differente il proprio programma, a mio avviso Renzi ha messo un focus sul merito, sulla necessità di fare entrare i giovani una forza nuova che ha riscosso grande successo e qui poi credo faremo una disamina sulle positività complementari delle parti in campo e quindi dando soprattutto luce, accendendo un riflettore su quelle che a mio avviso per esempio per il Molise diventano delle priorità fondamentali. Accanto a queste l'unica che voglio aggiungere perché mi sembra quella qualificante in modo particolare è oggi di estrema attualità ed è per questo che credo si stia arginando quel moto di antipolitica che ha generato un dissenso forte fra i cittadini che è la lotta alla casta, ai privilegi, il tentativo di ridare sobrietà, lo dicevamo anche prima, alla politica in generale e in questo anche contro il finanziamento pubblico ai partiti. Questo è un messaggio che credo sia passato. Allora, ascoltiamo il professor Silvio Arcolessi perché insomma Rifondazione Comunista dice ma che state dicendo? Noi non ci interessano proprio queste primarie, va tutto, è tutto da cambiare, è proprio così il giudizio negativo oppure sono stato io catastrofico? No, non è che non mi interessino, non ci interessino. Credo che come tutte le manifestazioni politiche che coinvolgono parte larga dei cittadini insomma vadano esaminate e analizzate nel loro significato. Ma il problema è che, come dire, a parte diciamo così una rettifica sulla posizione entusiasta, eccessivamente entusiasta sui numeri, rilevo anche io che insomma come faceva l'avvocato di Pietro che effettivamente se andiamo a fare un'analisi di agronica attraverso il tempo. Siamo passati dai 4 milioni e 6 di Prodi ai 3 milioni e 8 di Veltroni, ai 3 milioni e 100 di quest'anno insomma, pur in presenza diciamo di un battagio mediatico che si è fatto via via più rumoroso insomma. Quindi insomma io non direi ecco che possiamo... Non direi che da questo punto di vista questo possa essere assunto in assoluto come un elemento di rovesciamento della tendenza al distacco della politica insomma. Critica perché? Perché siamo critici e siamo stati critici? Siamo stati critici perché sostanzialmente si è trattato di una competizione che non ha messo a confronto visioni politiche, progetti politici veramente alternativi o veramente diversi in qualcosa di sostanziale insomma. La carta di interventi e le norme diciamo che disciplineranno, che sono come dire chiamate a disciplinare il futuro della coalizione in qualche modo costituiscono un recinto estremamente stretto dentro il quale l'alleanza comunque dovrà stare, no? Cioè voglio dire l'accettazione dei patti, l'accettazione dei diktat dell'Europa, dei banchieri e della finanza, no? Quindi voglio dire siamo... Bersani ha vinto, Renzi ha vinto, ma comunque diciamo questi vanno a costruire... All'articolo 18 che si pensa. Vanno a costruire una coalizione, ma l'articolo 18 è importante, ma ancora c'è addirittura qualcosa di ancora più importante, il negativo che questo governo appoggiato dal Partito Democratico, appoggiato dall'Udc, appoggiato dal Pdl, ha fatto insomma. Per esempio il recepimento del pareggio di bilancio in Costituzione con la modifica dell'articolo 81 della Costituzione stessa e questo significa per esempio tutta una serie di vincoli sulla spesa sociale e anche diciamo sui trasferimenti agli enti locali, no? Che già vediamo fortemente in sofferenza. E ultimo, ma forse la cosa più importante quanto a sostanze e contenuti, è il voto di recepimento del cosiddetto fiscal compact, no? Qui mi fermo soltanto dieci secondi, perché è una cosa veramente epocale, è una cosa veramente, come dire, destinata a condizionare per i prossimi trent'anni la vita del nostro Paese, insomma, no? Ma sulla quale c'è pochissima informazione. In sostanza, in base all'adesione a questo patto, noi dobbiamo, come dire, abbassare il debito pubblico, riportarlo dall'attuale 126%, noto tra parentesi che quando ha preso il governo undici mesi fa Monti, il debito pubblico era il 119%, il primo obiettivo era l'abbattimento del debito pubblico, dopo un anno siamo al 127%. Dobbiamo riportare questo debito pubblico in base al fiscal compact in 20 anni dal 127% al 60%, con rate annuali che sono dell'ordine di 48-50 miliardi all'anno. Quindi diciamo, per ottemperare a questa imposizione dovremo aggiungere a tutte le altre passività che ci provengono dal servizio ordinario del debito un'ulteriore manovra annua per 20 anni di 48-50 miliardi di euro. Voglio dire, alla Germania nazista, dopo la sconfitta della Seconda Guerra Mondiale, non è stata imposta, diciamo, una regola tanto dura. Beh, siamo qui dentro. Quindi i cinque candidati erano dentro questi paletti. Insomma, non so se qualcuno vuole replicare, però io finisco il giro delle domande. Insomma, andiamo da Vendola. Abbiamo detto primo turno, aggiungiamo anche in questo contesto di quello che diceva anche il professore Alcolessi. Vendola, insomma, ha ottenuto un ottimo risultato in Molise, perché questo, insomma, il Molise è andato veramente a sprombattuto, è andato con quasi 10 punti percentuali in più. No, 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 non quasi, abbondanti. Quindi, prego. È stato un risultato straordinario, davvero il risultato straordinario perché se eccettiamo la regione Puglia dove naturalmente ha fatto il pienone, così come è capitato agli altri candidati nelle loro regioni, il Molise risulta la prima regione d'Italia in termini percentuali, naturalmente, per i voti a Nichi Vendola ed è un risultato del quale noi siamo particolarmente fieri. Anche perché intorno a Nichi Vendola più che un'atmosfera da tifo è nata un'atmosfera legata al programma, alle idee. Io non posso non notare che Bersani, il quale poi ha vinto, come sappiamo tutti, le primarie, nel confronto che c'è stato giovedì sera o mercoledì sera, non ricordo, sul Rai 1, ha ripreso molte delle frasi che noi qui abbiamo sentito a Campobasso un paio di settimane fa quando Nichi Vendola è venuto a parlare al Centrum Palace. Sentire Bersani parlare della necessità di evitare di spendere soldi su aerei da guerra, sentire Bersani parlare dei diritti delle coppie omosessuali, delle coppie di fatto, è una cosa che naturalmente ci riempie di orgoglio perché questo significa... Bisogna avere l'ora che si va avanti con tutti questi partiti e questi accordi, come riusciranno e se riusciranno queste cose. Però la mia domanda era un'altra conclusione, vi sono interrotta, le faccio una domanda aggiuntiva. Perché poi alla fine ha vinto Bersani? Si diceva questa rottamazione che bisognava fare correnze oppure cambiare il volto della politica. Ha vinto per restare in tema di auto, ha vinto l'usato sicuro, l'usato garantito? Ma no, io credo che abbia vinto la persona che ha saputo dare più sicurezza all'elettorato. Ha usato i toni pacati che è il caso di usare in questi casi, evidentemente, insomma, è stata una scelta vincente. Ha usato le idee delle quali noi siamo, come dire, fornitori. Più che un usato sicuro, mi pare che abbia messo in tavola degli ingredienti basati sulla pacatezza, sul controllo e soprattutto sulle idee. E di idee di sinistra ce ne ha messe tante. E particolarmente, insomma, per dire la cosa che mi pare sia stata più pregnante, a un certo punto ha detto che all'UDC piaccia o no. E vediamo, vediamo perché ce l'abbiamo poi all'UDC, perché poi ci dirà le ultime concesa. Le abbiamo fatto saltare la cena a Di Pietro concesa, quindi ci dirà tante chicche. Cristiano Di Pietro, per ultimo l'Italia dei Valori, perché era un attentissimo osservatore in queste primarie. Insomma, da vasto si era capito, insomma, con Bersani inizialmente. Non c'era più quella foto, abbiamo detto, in tante trasmissioni. Di Pietro però ha osservato, non ha profuso anche impegno per l'uno o l'altro. Dice, valuterò attentamente Di Pietro, presidente. Cristiano Di Pietro, come le ha vissute queste primarie? Qual è il pensiero dell'Italia dei Valori? Perché, insomma, alle 21.30 di questa sera non è che abbiamo molte notizie proprio su questo esito dall'Italia dei Valori. Vogliamo un po' dirle, quasi come prima notizia. Prego. Ma, guardate, innanzitutto l'Italia dei Valori è stato un osservatore, però un po' più dentro rispetto agli altri partiti. L'indicazione c'è stata, un'indicazione dove abbiamo lasciato liberi i nostri elettori di fare ciò che volevano le primarie, cioè andare e non andare. E abbiamo dato un'indicazione se o Vendola o Bersani. Questa è stata l'indicazione che è arrivata dal partito a livello nazionale. E abbiamo osservato queste primarie. Abbiamo capito innanzitutto che l'antipolitica non vincerà, perché c'è voglia di mettersi in piazza e parlare di politica, non solamente in maniera distruttiva. Ma soprattutto, a livello personale, a me ha fatto piacere vedere tutti quei militanti del partito che si sono messi a disposizione delle loro sigle per stare sotto i gazebo a raccogliere, andare a disposizione per poter votare. Ecco, a tutti quei militanti va detto, bravi, avete fatto un ottimo lavoro. A me piace molto quando un militante, nonostante l'antipolitica, sputifango addosso ai partiti, addosso ai politici, restano lì al loro posto e continuano a credere nei valori del loro partito. E poi si tra le valori, SEL, PD, ma l'importante è che stiano lì. E quello è un segnale importante che si dà all'antipolitica. I militanti ci sono e lavorano e credono in quel progetto. Perché però il presidente Di Pietro non è sceso in campo in queste primarie? Diciamo che non erano solo del PD, ha partecipato Vendolo, hanno partecipato anche altre forze politiche. Perché il presidente Di Pietro? Noi l'abbiamo detto chiaro a Vasto, abbiamo detto per noi il leader è Bersani. Infatti l'abbiamo invitato anche a Vasto a partecipare alla nostra tre giorni di convegno. Rimane Bersani, anche perché da Statuto del Partito Democratico il segretario nazionale del partito è il candidato premier, ci risulta. Però abbiamo detto, se fate le primarie, assisteremo a guardare che succede. Abbiamo dato due indicazioni. Vendola, perché è una brava persona, e Bersani perché crediamo anche in lui. E quindi abbiamo guardato cosa succedeva. Ora vediamo gli sviluppi. Insomma, Italia dei Valori subito no a Renzi, Fanelli. Noi abbiamo delle prospettive di alleanza di molta più lunga provisione, credo a livello nazionale, a livello regionale. Io capisco benissimo le tappe intermedie. In realtà quello che ci accomuna è molto di più. E credo che quello che avverrà è esattamente questo, sia che sia febbraio, sia che sia la primavera inoltrata, e che correremo insieme. L'Italia dei Valori sarà della squadra del centrosinistra in modo forte, e ci aiuterà a vincere questa partita. Oggi sotto la bandiera di Bersani. Poi, ovviamente, a ognuno le proprie differenze, le proprie simpatie, ci mancherebbe altro. Siamo qui in democrazia proprio per questo. Io sono molto contenta del risultato di Renzi, in particolare in Molise, il 40%, fatta in pochissimi. Mettiamo subito fuori campo l'Udc, vero, Teresio Di Piero? Soprattutto siamo curiosi di capire che cosa succederà da queste parti. C'è, penso che non è che siamo d'accordo subito con l'Italia dei Valori. Ma io credo che in questo periodo di tempo c'è un continuo parlare dell'Udc, chi ci vuole, chi non ci vuole. Se andiamo dei veti, qualcuno addirittura che pone parleremo con l'Udc buona, con l'Udc meno buona, con gli organi del partito o di altro. Allora, scompriamo subito il campo di questo momento. Noi siamo un partito che in questo momento, a livello nazionale, è fuori dai due blocchi. È fuori dal centro-destra e dal centro-sinistra. Stiamo al governo in questo momento, di questo non è che ne prendiamo atto. Siamo al governo Monti, lo siamo al governo Monti, sostenendolo insieme al PDL e al PD. Adesso, per quanto riguarda le future alleanze, io non mi sottraggo da determinati tipi di discorso. Non mi sottraggo che la foto di Vasto, lo abbiamo sempre ritenuta per noi dell'Udc, e non è la prima volta che lo dico, una foto che non ci interessa. Cioè, prima che gli altri dicono che non ci interessa il tipo di discorso a noi dell'Udc, noi abbiamo sempre detto che la foto di Vasto è una foto che non ci appartiene. ma poi voglio dire a qualche di un altro che si è votato in Sicilia e in Sicilia qualcosa è successo. In Sicilia è successo che quella foto non ha preso piede neanche in Sicilia, perché in Sicilia non a caso l'alleanza è stata fatta tra il PD, quindi l'Udc è la lista crocetta. Quindi in Sicilia, in Sicilia, che potevano essere determinanti i voti del PDL, i voti dell'Italia dei Valori, e potevano essere determinanti i voti del SEL, in Sicilia si è ritenuto di fare un esperimento politico ben diverso da quello che in tutti i posti continuiamo a dire, in cui c'è l'auspicio anche di tornare qui nel Molise. Quindi voglio dire, se la Sicilia ci insegna qualcosa, noi prendiamo atto di quello che è successo in Sicilia, però non permetto più a nessuno di continuare a fare i distingui non vogliamo l'Udc, non vogliamo questo, perché nessuno sta chiedendo, io lo dico ufficialmente anche qui nel mio Molise, nessuno sta chiedendo di entrare in determinate foto, anche perché nel momento in cui decidiamo, decidiamo in maniera autonoma, decidiamo perché lo abbiamo sottoposto, sempre fatto, io voglio ricordare che noi sono dieci anni che nel Governo nazionale siamo stati all'opposizione di Berlusconi, siamo stati all'opposizione di Prodi, abbiamo rischiato di nostro, noi abbiamo rischiato l'estinzione politica per non accettare l'editto del predellino, quindi queste elezioni che molte volte ci dicono non li vogliamo, non li vogliamo, molte volte i matrimoni, se si fanno i matrimoni, ci deve essere una convergenza bilaterale. Quindi pure se questa volta rimanete all'opposizione non è un problema, ci deve essere una convergenza di carattere bilaterale quando c'è un matrimonio o quando c'è un contratto. Noi i contratti per adesione li facciamo solo con l'Enel quando dobbiamo attaccare la luce, ma neanche più con l'Enel li facciamo perché adesso ci sono tante altre compagnie in cui neanche più quei contratti di adesione si sono un po' liberalizzati. C'è la liberalizzazione. Resto però in tema con Fanelli brevemente. Un po' però il comitato Pro Renzi ci è rimasto male per come si sono organizzate le primarie. Insomma, non tutti hanno potuto votare. Chi non è andato al primo turno non ha potuto votare al secondo. Chi aveva la febbre domenica scorsa, ieri. Ma neanche? Se dò la giustificazione non cercherò me che potevano votare. No, neanche. Doveva persistere per tutti e 24 i giorni precedenti. Allora, il punto è diverso. Io credo che l'accordo fra Bersani e Restinzi si sia consumato in un modo molto democratico e leale. Il segretario del partito era attitolato a correre alla leadership nazionale del centrosinistra da statuto e ha accettato di mettersi in discussione perché così fanno i veri leader. E però ha anche detto all'avversario. Le regole le facciamo noi. E in questo si è chiuso un accordo bilaterale per cui Renzi ha accettato di stare sotto alcune regole che erano oggettivamente difficili per lui che partiva da outsider riuscire a garantire attraverso quelle regole riuscire a garantire un successo finale. In particolare giovedì e venerdì quando c'è stata la chiusura totale per le delibere formali 25 e 26 nazionali che sostanzialmente decretavano il principio che l'impedimento era necessario stracertificarlo e che doveva perdurare per un tempo troppo lungo una serie di vischiosità su cui nemmeno mi voglio fermare ma lì è stata la consumazione di una pagina che era suggellare i votanti al primo punto. Perfetto. Ha risposto perché se no poi andiamo... No, fatto questo direi che il risultato era abbastanza scontato. Credo che quindi alla fine entrambi sapessero il punto di arrivo dell'intero percorso che è l'arricchimento complessivo quindi in quel primo contratto fra i due c'era già l'esito non dico finale perché la speranza e lo dico sì da sostenitrice di Renzi era che fra giovedì e venerdì si accettasse un'apertura totale ma era una speranza che si muoveva all'interno di un contesto diciamo che il botto si doveva fare al primo turno altrimenti dopo diventava... No, 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 no la speranza c'era reale perché avete visto come è cresciuta l'attenzione fra il primo e il secondo turno in realtà il popolo italiano si è accorto che fra il primo e il secondo turno c'erano davvero le primarie al di là degli appassionati dei tifosi del 3 milioni cioè dalla antenna sulle reti nazionali è venuto un messaggio forte mi consta direttamente centinaia di telefonate che si sono consumate fra il mercoledì dopo il confronto il giovedì e il venerdì erano di persone e posso ipotizzare che sia avvenuto lo stesso all'altro lato ma a me consta direttamente che volevano votare votare, 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 votare è un'esperienza che serve per il futuro perché questa è un'onda che va tesorizzata perché è troppo positivo vedere che gente vuole votare e magari gli si dice di no per motivi fondati più o meno fondati ognuno ha le sue valutazioni e poi vediamo se in Molise insomma anche qui gli aspetti televisivi usciranno a confronto che non si nascondono i candidati presidenti io credo che se c'è questa così voglia grandissima di votare è bellissimo far votare e credo che questa sia la prova più bella aspettiamo il centrodestra perché adesso dovranno cimentarsi voglio vedere se in due settimane se ai gazzetto ci sarà la rissa per votare questo è un elemento credo di frizzanteria vedremo vedremo e poi voglio andare a Termoli da Oreste Campopiano a Giovanni Cannarsa brevemente vorrei rimanere sul dato con Petraroia chiedendo Bersani poi era abituato a vincere le primarie aveva già battuto Franceschini quindi insomma si sapeva era molto esperto delle primarie però sorprende a Petraroia che non sono scesi in campo altri big, D'Alema, Veltroni, personaggi insomma che sono stati un po' più alla finestra ad aspettare. A me non sorprende assolutamente, io voglio riprendere alcune osservazioni molto acute che ha fatto Silvio Arcolesse. In questo momento in Italia sfugge che ogni anno vanno in scadenza qualcosa come 300-350 miliardi di titoli del debito pubblico e se non ci sono investitori internazionali che mettono i soldi perché ritengono l'Italia un paese credibile, noi possiamo fare tante parole, ma se non ci sono i soldi l'Italia fallisce. In questa condizione noi siamo sotto il gioco del Fondo Monetario Internazionale che con la Banca centrale europea impone a tutti i paesi europei determinate regole. I tedeschi dicono noi vi prestiamo i soldi ma voi non potete continuare a ingannarci, lo dicono a noi, lo dicono alla Grecia, alla Spagna, altri paesi, vogliono controllare e capire e quindi hanno imposto delle regole che sono regole che andrebbero anche rivisitate. In questa condizione l'Italia poteva tranquillamente trancollare. Lo scorso anno se c'è stata necessità di chiamare il professore Mario Monti dalla pensione e impegnarlo per cercare di tirar fuori il nostro paese dal collasso attraverso un'operazione straordinaria e eccezionale non è che adesso i problemi sono risolti, diciamo che alcune cose sono state fatte, altre dovranno essere fatte dal governo politico. L'unica proposta politica credibile che può tranquillizzare gli investitori internazionali ma mettendoci dentro un concetto che è quello dell'uguaglianza su cui Bersani ha insistito quando ha vinto ha fatto scorrere dietro di sé due immagini, quelli della famiglia e l'immagine dei lavoratori. Come a dire che insieme a François Hollande che ha vinto in Francia e speriamo che si vinca anche in Germania con la SPD si va a intaccare come si diceva una volta nella storia della sinistra, cioè il socialismo lo si costruisce nel mondo perché in un solo paese è semplicemente un'utopia e rimarrà un'utopia. Allora o Bersani riuscirà non solo mettendo ordine e unificando il campo dei progressisti ma cercando di chiedere anche a quelle forze democratiche di centro di condividere questa scommessa perché l'Italia vive una fase delicatissima e in Europa si proveranno a mutare le politiche per invertire i processi o altrimenti il nuovo capo del governo italiano c'è già e si chiama Mario Mondi. Il resto sono soltanto parole che si possono dire leader e quant'altro. Il PD ha fatto una scelta saggia, generosa dal punto di vista di Bersani. Io voglio esprimere un grande apprezzamento al coraggio che ha avuto Nichi Vendola perché Nichi Vendola poteva tranquillamente cavalcare la protesta, l'onda, il malcondendo e voglio ricordare che per un periodo si parlava di una sorta di forze non allineate col governo Mondi e invece con responsabilità ha fatto quello che fece Palmiro Togliatti nel 48, quello che fece Enrico Berlinguer nel 76. Ogni volta che l'Italia è stata in pericolo la sinistra ha scelto l'Italia, non ha scelto di cavalcare l'onda per interessi di parte. Vendola ha fatto però una scelta anche di merito, di contenuti e Bersani non ha faticato a recepire all'interno della sua proposta questo tipo di ragionamento. Il resto del PD è stato compatto, le primarie se hanno avuto questo dinamismo e sono state così interessanti è perché Renzi ha portato due elementi estremamente positivi, quello del rinnovamento generazionale e quello di matrice più liberal democratico. Parliamoci chiaro, Bersani è il primo comunista dal 1944 quando Togliatti e Palermo stavano al governo che è stato investito dai cittadini per andare a guidare la Repubblica italiana. Ha una matrice social democratica e non se ne vergogna ad affermarlo. Renzi parlava di una proposta liberal democratica con accendi più forti su alcuni tratti che meritano di essere attenzionati ma che evidentemente sono più allontani dalla tradizione della sinistra europea. Però Silvio Arcolessi, breve replica poi andremo da Termoli. Breve, molto breve, qualche notazione. Sappiamo diciamo che la destra di Caramanlissi in Grecia ha alterato i conti pubblici e che questo è avvenuto in occasione dell'attribuzione ad Atene dei giochi olimpici. I consiglieri in questa operazione, diciamo, non certo virtuosi, i consiglieri di Caramanliss nel truccare il bilancio dello Stato erano Mario Monti, a divisor per l'Europa di Goldman Sachs e Mario Draghi, responsabile europeo di Goldman Sachs. Il debito pubblico è esploso in Italia negli anni del craxismo sostanzialmente, nel 92, anzi negli anni a cavallo tra il craxismo e l'avvento della cosiddetta Seconda Repubblica. No? Nel 92, sull'onda così di questo generalizzato entusiasmo per il privato e di questa demonizzazione del pubblico, si privatizza la Banca d'Italia. Non so se i cittadini che ci ascoltano... Beh, allora, a quel punto diciamo che cosa succede? Succede che la Banca d'Italia non è più prestatore di ultima istanza e l'emissione dei bot comincia a essere messa sul mercato, per cui esplode il debito pubblico. D'altra parte abbiamo con craxi politiche di esplosione e di espansione del debito pubblico legate soprattutto alla gestione del pubblico impiego, Cirino Pomicino. Il consigliere speciale del ministro Cirino Pomicino in quegli anni era il professor Mario Monti. Quindi insomma aveva un brutto curriculum per ripescarlo, però non è che si è riportato craxi dalla tomba, si è sicuramente girato resta Campopiano a Termoli, che è un socialista. Vediamo, andiamo a Termoli da Campopiano. Sì, sono qui, dimmi. No, insomma, che dire, è stato toccato un po' tutto il socialismo. Beh, è stato toccato, insomma, ormai, dico, quell'epoca è finita nel 92, la prima repubblica è finita nel 92, quindi credo che non è che possiamo oggi ricercare responsabilità di carattere politico ad oltre un vendennio addietro. No, però diceva Arcolessi, diceva... Un attimino sulle primarie. Eh, no, diceva Arcolessi alla fine, però Monti ancora c'è, dal 92 è finita quell'epoca, ma non del tutto, perché Monti stava sia nel 92 e oggi è stato un po' a salvare l'Italia. Questa era, insomma, l'opinione di Arcolessi. Prego. Ma io credo che da questo punto di vista il professore Arcolessi ci abbia assolutamente ragione. In ogni momento di criticità della vita economica e sociale italiana, dal dopoguerra ad oggi, ciò che è stato... i punti di riferimento sono stati o i governatori della Banca d'Italia, Ciampi, o altrimenti, ecco, gli accademici, che poi accademici lo sono per ridare una buona immagine, ma nello stesso tempo per portare avanti politiche sostanzialmente di conservazione. Quello che è accaduto e che sta accadendo con questo governo, lo dobbiamo dire con molta franchezza. Io invece vorrei tornare un attimino, se mi consenti, sul discorso del centro-sinistra. Condivido e sottolineo, così come bene ha fatto Michele Petraroia, a sottolineare che queste primarie non sono state, contrariamente a quelle che si dice, le primarie del Partito Democratico, pensi le primarie di un ampio schieramento politico e sociale che ha attraversato un po' tutta quanto, o gran parte del centro-sinistra. Però mi soffermerei sulla prima battuta, subito dopo la vittoria, di Bersani, che ha fatto appunto Bersani, credo al Capranica, al Cinema Capranica, dove aveva radunato i suoi più stretti collaboratori. E lui ha detto adesso, da domani, ci impegneremo su un forte programma di governo e su un forte discorso di cambiamento del centro-sinistra. Evidentemente Bersani c'ha ben chiaro un concetto, che credo che sia il problema centrale di cui si dovrebbe discutere. Solo con la sinistra o solo con questo centro-sinistra non si vincono le elezioni. E allora c'è la necessità di aprirsi a responsabilità e a contributi anche di aree moderate dell'elettorato italiano. Se non facciamo questo, la sensazione che noi avremo veramente è che Monti succederà a se stesso. Ma non è il problema di Monti, che è una bellissima immagine, ci ha ridato credito a livello internazionale, però comunque il debito pubblico è salito e quindi evidentemente si è fatto molto sull'immagine, ma non si è fatto molto invece sulla spesa e quindi sugli interventi strutturali che questo governo avrebbe dovuto fare raccogliendo l'Italia da una situazione con il governo Berlusconi, che era una situazione oggettivamente critica, non soltanto in termini di immagini, ma anche in termini economico-finanziari. Non è cambiato molto da allora, anzi qualche punto si è peggiorato, e quindi dobbiamo vedere di porci il problema tutti insieme al di là degli schieramenti, al di là delle sigle, al di là dei partiti che più o meno raccoglieranno una parte del consenso, di quel 50% circa di soggetti, di elettori italiani che andranno a votare purtroppo, e questo è uno dei problemi che anche il centrosinistra o comunque le forze che si propongono a governare il Paese dovranno mettere in campo e quindi studiare questo fenomeno sociale, ma soprattutto non solo di riportare alla gente, ma di cambiare i criteri, cambiare i sistemi guardando effettivamente a quelli che sono gli interessi del Paese in un contesto internazionale che è un contesto decisamente molto molto delicato. D'accordo, e noi abbiamo fatto un po' il punto anche a livello nazionale, scendiamo a livello regionale e quindi vediamo cosa è accaduto con queste primarie, quindi ci vediamo il servizio, pubblicità, Cannarsa e Campopiano non andate a mangiare perché vi guardiamo dal monitor, vediamo. Da un lato Pierluigi Bersani, rassicurante, tranquillo e sicuro di sé. Dall'altro Matteo Renzi, esuberante, carismatico, giovane. Se facciamo le cose per bene non ci ammazza più nessuno, aveva messo Bersani proprio pochi giorni fa e qui immaginiamo lo spiccato ma piacevole accento Emiliano del vincitore. I molisani hanno scelto, seguendo la scia nazionale, l'uomo delusato garantito, come in molti lo avevano descritto. Nulla di sorprendente in una regione in cui il proverbio lascia il mondo come si trova la fa da padrone in ogni settore, figurarsi quello politico. Nessun nuovo volto, anzi, i molisani hanno scelto di identificarsi di nuovo nel vecchio. Bersani che durante l'intera campagna elettorale aveva ammesso di non poter fare i miracoli ha convinto di più, eccezion fatta per il comune di Riccia, che non sorprende affatto per le relative affinità politiche, si intende, tra il sindaco Michela Fanelli e il primo cittadino di Firenze. Sorprendenti in questo senso sono invece i risultati del balottaggio a Ferrazzano 96-85, Monaciglioni 29-13, Castropignano 29-24, Pietracatella 113-25 e Cerce Maggiore 54-33, dove Renzi ha superato Bersani. In provincia di Sernia, soltanto a Filignano, il giovane sindaco l'ha spuntata per otto voti sull'ex ministro dell'Industria, 28-20 il dato numerico. Insomma, Riccia ha rappresentato in Molise quello che la Toscana ha rappresentato in Italia. L'usato garantito piace di più della rottamazione in Molise. Ieri in regione hanno votato 9.795 persone, a fronte dei quasi 1.500 della scorsa domenica. Qualche cosa nel meccanismo deve essersi inceppato. Meno persone hanno deciso di non esprimere il proprio voto attraverso le primarie, considerate come la più alta forma di democrazia in uno scenario, quello italiano, in cui a governare sono attualmente tecnici e burocrati, non suffragati da alcun voto popolare. Scenario unico in Molise, dove Pierluigi Bersani, il rassicurante 61enne, ha avuto un totale di 6.199 preferenze, mentre il 37enne toscano ne ha registrate quasi la metà, 3.562 per un 36,3%. Focalizzando l'attenzione invece su due capoluoghi, nessuna sorpresa. Nella provincia di Campobasso Bersani batte Renzi per 4.055 voti a 2.640. Nella provincia di Sernia Renzi esce sconfitto con 922 voti su 2.144 preferenze assegnate all'avversario. Insomma, per dirla alla Ezio Mauro, le primarie incoronano Bersani. Rieccoci tornati in diretta. Io senza, insomma, poi abbiamo visto anche i dati in Molise, però io partirei con il dato nazionale e farei rispondere. Però vi prego, brevemente, perché siete davvero tanti. Io comincerei con i offredi. Come bisogna custodire questi 3 milioni di cittadini che sono andati a votare? Perché secondo me il primo problema è proprio questo. C'è stato un avvicinamento alla politica, si aspettava veramente il peggio. Però come si custodisce adesso? Io non ho dubbi. Non si custodiscono questi voti, questo consenso, questo entusiasmo con promesse e con chiacchiere. si custodisce con programmi. Io ho sentito parlare Vendola, del quale sono rimasti infatuato, come moltissimi, e gli ho sentito dire delle parole che non avevo mai sentito dire a nessun altro, cioè parlare della crisi internazionale, la crisi europea fondamentalmente, in termini fattivi, e gli ho sentito dire per quale motivo noi dobbiamo accettare una sfida commerciale ed industriale con paesi che non danno gli stessi diritti che diamo noi ai lavoratori. Ci sono le nazioni che adesso vanno per la maggiore e che ci stanno mettendo in ginocchio, se non peggio, sono nazioni in cui i lavoratori vengono sfruttati, non hanno diritti, hanno orari di lavoro massacranti, salari bassissimi, nessuna sanità che li custodisca. Noi dobbiamo lottare nel nostro Stato con queste nazioni, non è possibile. Questa è una riflessione importantissima ed è una riflessione che portata davanti all'elettorato non può non fare proseliti. Questa è una cosa che l'Italia non può portare avanti da sola, perché è chiaro che se c'è anche un Holland e se c'è anche una Germania, una Spagna che giano il loro timone verso sinistra, allora potrebbe esistere una politica europea votata alla difesa, non del proprio fatturato, della propria industria, quindi non una cosa protezionistica, ma combattiamo alla pari con i mercati asiatici, ma non nel senso che noi dobbiamo abbassare le nostre garanzie, sono loro che devono dare le garanzie anche ai loro lavoratori. Sono concetti importanti che sono facilmente assimilabili dalle persone ed è questo il modo di mantenere il contatto con l'elettorato. Silvio Arcolessi, mentre gli altri facevano le primarie, Rifondazione Comunista aveva sì gazebo, ma per raccogliere le firme, per il referendum, quindi insomma anche voi non è che siete stati fermi a guardare soltanto cosa accadeva? Come dire, il nostro partito con tutti i problemi che ha sta però vivendo una fase di estremo impegno, insomma, c'è la campagna referendaria che punta a restituire ai lavoratori e alle popolazioni i diritti che il governo Berlusconi e il governo Monti ha negato a questi lavoratori e a queste popolazioni, quindi i referendum hanno a che fare con il ritorno alla legislazione pensionistica precedente all'ultima riforma, tra virgolette, Fornero, che impone alle persone di andare in pensione a 70 anni anche quando fanno lavori duri. Voglio dire, questo è stato un passaggio drammatico per persone arrivate a 61-62 anni che si sono visti, come dire, il progetto di vita sconvolto in una prospettiva di 5-6-7 anni. I firme sono state raccolte puntualmente, no? Stiamo raccogliendo, naturalmente, non ho adesso i dati a livello nazionale, ma insomma dobbiamo tener conto, la ringrazio di questa domanda, perché c'è un blackout informativo e mediatico su questa cosa che è terribile, insomma, no? Cioè può capitare alla ventottesima pagina del Corriere della Sera di leggere qualche trafiletto, insomma, ma questa è una cosa tacciuta. Peraltro questa è una cosa che stiamo facendo assieme a Vendola, insomma, no? Peraltro la raccolta di firme sui referendum per il ripristino dei diritti al lavoro, quindi per tornare al vecchio articolo 18 e per abrogare l'articolo 8 dell'ultima finanziaria di Berlusconi, che di fatto abolisce il contratto di lavoro, diciamo, questo lo stiamo facendo con un comitato largo che ci vede assieme all'IDV e assieme a Selle, insomma. Però io rimango, le do 20 secondi in più, rimango su quello che diceva Pocanzi, per sconvincere Berlusconi, per lottare contro il governo Monti, ma per avvicinarsi a Bersani è davvero un'idiozia? Oppure in queste larghe trattative di fondazione può avvicinarsi? Se? Io non credo che, ecco, da un punto di vista delle attuali dimensioni organizzative e elettorali potrebbe sembrare la pretesa del topolino rispetto all'elefante, no? Ma l'analisi è quella che, cioè, il Partito Democratico, con delle varianti, è tutto dentro un'impostazione neoliberista, sostanzialmente, insomma. E in Italia c'è bisogno, come dire, di ricostruire una presenza, invece che rappresenti un'istanza di alternativa a questa impostazione. Io non nego che la realtà possa cambiare. E non nego, quindi, che l'elefante possa in qualche modo avvicinarsi al topolino, speriamo. Petraroia, c'è un margine di trattativa? Perché, insomma, anche lei è da sempre vicina ai lavoratori. Io credo che si ripropone quello che accadde nel 1871 al congresso tra chi seguiva Bakunin e chi cercava di seguire la linea mazziniana. Cioè, tra chi pensava che attraverso la presa violenta del potere poi si assicurasse a tutti quanti i cittadini, a tutti gli uomini, la possibilità di vivere bene e chi immaginava che bisognava, come poi venne tradotto da Turati, da Andrea Costa e da altri, con la Costituzione del Partito Socialista, quello importante del 1892, che attraverso la democrazia, con le riforme, andando al governo, le massi popolari potevano distribuire benessere. Allora, qui, tra rifondazione comunista, che potrà legittimamente, con grande dignità, fare le asserzioni più belle del mondo, ma che non incidono concretamente sui processi. Cioè, se ci fosse stato uno di rifondazione negli Stati Uniti, a sinistra di Obama, l'unico risultato che avrebbe colto, che vinceva Mitt Romney, che il primo atto che avrebbe fatto è eliminare per 60 milioni di americani la sanità, e il secondo atto finiva di rendere ancora più selvaggio il capitalismo, visto che lui c'ha tutti i soldi alle isole Cayman. Invece, l'idea di andare al governo, e come diceva prima Nico Ioffredi, poiché il governo di una sola nazione non è più sufficiente per modificare i processi, l'idea degli Stati Uniti d'Europa, dove tu metti insieme 500 milioni di persone, se costruiamo l'Europa dei popoli, e non soltanto l'Europa dei mercati, e a fianco alla Banca Centrale Europea, noi eleggiamo direttamente il Presidente degli Stati Uniti d'Europa, e facciamo una cessione di sovranità, possiamo tutelare a quel livello sanità, scuola, lavoro, cioè cerchiamo di uniformare le regole, perché 500 milioni di persone con il prodotto interno lordo europeo potranno competere con Cina, India da un lato e Stati Uniti dall'altro. No, ma perché queste cose le dobbiamo sapere, perché... Sì, prego. Questi sono concetti importantissimi. Non possiamo mettere queste problematiche così pregnanti, così importanti, che in qualche modo decidono la sopravvivenza di questo continente, in mano a uno che pensa soltanto a fa soldi con la pubblicità nelle televisioni. Cioè lì è importante dare fiducia alla sinistra, tanto negli altri paesi europei, tanto in Italia. Io non riesco invece, quando mi sposto da quest'altra parte, ad avere un filo logico, perché guardo, guardo Michela Fanelli, mi viene sempre, diciamo, le parole di Matteo Renzi di questi ultimi giorni, perché poi dico io, no? Perché è bello, insomma, parlare da vincitori, fare le dichiarazioni, ma insomma, saper parlare, uscire bene da sconfitti, è una cosa, secondo me, molto, molto difficile. Quindi mi viene sempre in mente questa scena. L'altro aspetto è che vedo Michela Fanelli da una parte in mezzo all'Udc e dall'altualità dei Valori. Insomma, questi due insieme, è un po' difficile da unirli per fare questo grande partito. Parliamo un po' più del secondo aspetto. Bersani, secondo Michela Fanelli, poi dovrà optare o l'Udc o l'Italia dei Valori o tutti e due. Renzi ha avuto, su questo è una posizione chiara, non me ne voglia l'amico dietro, e che era quella di fare un discorso rivolto, molto rivolto a sinistra, quindi su questo ha escluso... Senza guardare la Sicilia, come diceva... Ma no, ma fa anche una, secondo me, un'operazione politica da questo punto di vista utile all'intero centro-sinistra, quella di parlare a un popolo anche moderato e di centro, facendo la battuta, non serve dare in appalto esterno alcuni voti se possiamo prenderli noi direttamente. In questo riproponendo quindi un inedito sistema di potenzialità di governo, più vicino all'ulivo originario di Prodi e meno, diciamo, necessariamente legato a tanti pezzi che poi è difficile ricucire insieme. In Molise è facile, basta dire siamo con Di Pietro, quindi l'abbiamo presi tutti e due. Da questo punto di vista l'omonimia, sì, in effetti è quanto di più stridente, oppure in contraddizione, soprattutto nella nostra regione, mi sembra, ma su questo credo che si sappiano... Comunque il pensiero di entrambi sia utilmente espresso da loro nel migliore dei modi. Certo che il vero tema adesso che ha sul tavolo Bersani è quello di un programma forte per una coalizione che regga e questo è sicuramente il secondo che veniva ricordato prima è quello del rinnovamento. In questo credo che la grandissima spinta di Renzi abbia già raggiunto l'obiettivo ora, perché aver subito posto la questione del rinnovamento generazionale, dell'innovazione all'interno anche dei quadri, all'interno del centro-sinistra, è stato già raccolto. E quindi da questo punto di vista il successo è per quello che al di là dei numeri legittimamente c'è una soddisfazione nel centro-sinistra in generale, nel PD in particolare, nei comitati Renzi ancora più in particolare. E perché probabilmente era tempo di scuotere l'albero e credo, avendolo scosso, abbiamo anche fatto un servizio anche al segretario che oggi si trova in una situazione di maggiore comodità a fare delle operazioni che magari scarica le responsabilità su Renzi che si mandavano fatte da tempo. Di Pietro, io ci provo, sicuramente meglio Teresio Di Pietro che Nicola Dascanio, quindi per rimanere in tema Montenero, forse con Teresio si può ragionare di più, alla provincia con Dascanio sappiamo tutti come è andata a finire. Però questa era una pessima mia battuta. Tralasciando la Sicilia, quindi si può ricompattare il gruppo tenendo da parte l'Udc per l'Italia dei Valori? Innanzitutto voglio aprire una parentesi sui referendum perché i quesiti sono quattro dei referendum. Ci sono l'articolo 8, l'articolo 18, l'abolizione del finanziamento pubblico dei partiti e l'abolizione della diaria. Devo dire che anche l'Italia dei Valori sta lavorando molto sui referendum. Esattamente, stiamo lavorando molto sui referendum in questo periodo, sotto il gazebo a raccogliere le firme. Quindi approfitto perché nessuno ne parla. Certo, no, no, prego, prego. Quindi approfittiamo di questa vetrina che ci dà per parlare andate a firmare i referendum, c'è ancora tempo. Detto questo, per quanto attiene, io parlo del livello locale, a livello nazionale, credo che scatteranno altri sistemi per le alleanze di cui non sono oggi a conoscenza, non è neanche il mio ruolo quello delle alleanze nazionali. Per quanto riguarda le alleanze locali, noi sappiamo che l'Italia dei Valori, l'abbiamo detto in tutte le salse, siamo con frattura. Primari o non primari, noi saremo sempre con frattura. L'unico momento in cui potrebbe crearsi difficoltà in un'alleanza con frattura è nel momento in cui mi ritrovo gli uomini di Iori in lista. Ecco, lì mi si creerebbero grosse difficoltà all'Italia dei Valori. Noi non abbiamo nulla a livello personale con nessuno, ma certamente non potremo mai fare comizi o campagne elettorali con chi per dieci anni, undici anni, ha lavorato fianco a fianco a Iori e ha portato la Regione a quello che è oggi. Quindi un DC sì, tranne Teresio Di Pietro e il gruppo che ha sostenuto Michele Iori. A noi dell'Italia dei Valori sicuramente non ci metteremo mai al fianco di nessuno di queste persone, a costo di correre da soli. La vedo dura, Teresio Di Pietro, ma penso che anche voi l'ha pensato in questo modo. Allora, io per l'ennesima volta vengo ritirato. Mi fa piacere quando Cristiano mi dice mai staremo... Innanzitutto già l'avete fatto, perché stai dicendo che lo stai facendo con frattura che per undici anni è stato al servizio del centrodestra. Quindi, errare umano, forse perseverare potrebbe essere diabolico. Ma perché aveva dei ruoli di governo? Non lo so, non lo so se aveva o non aveva. Ma adesso, Michela, non entriamo su questo argomento sul ruolo di governo. Voi state sostenendo una persona che per undici anni è stato per due volte candidato nel PDL, due volte candidato nel PDL, e di questo certamente non è che ce ne siamo dimenticati, che doveva essere il candidato sindaco di Campobasso, che sta... Va bene, ma al di là di questo, a me fa pienamente piacere quello che sta dicendo Cristiano in questo determinato momento. Ma noi, sotto questo argomento, non siamo interessati. Non solo, ma c'è un altro argomento di fondo. Io sento parlare, anche per quanto riguarda il discorso delle primarie, da tutti quanti. Io mi sento veramente, questa sera, in un discorso di estraneità. Ma signori mei, noi abbiamo assistito a delle primarie che erano, sotto alcuni punti di vista, l'antitesi della politica nell'ambito dello stesso partito. Noi avevamo, dalle politiche liberali di Renzi, su determinati tipi di discorso, alle altre tipi di politiche di Bersani. Non c'era un patto generazionale solo a confronto, perché Renzi nasce come rottamatore, che quindi con tutte le sue battute su D'Alema, sulla Binde, su A. Ma noi abbiamo determinati tipi di discorso. Noi se andiamo a dire che qui bisogna fare dei referendum per l'abrogazione dell'articolo 18, quando da Renzi se andiamo a dire le teorie di Ghino, cioè voglio dire, sono due cose prettamente, prettamente diverse. Si parla da Renzi che dice, perché a Renzi in alcuni momenti fa dei discorsi di sinistra, però dopo su alcuni momenti fa qualche passo indietro. Qui si sta molto demonizzando, ad esempio, il discorso del finanziamento dei partiti, perché è uno dei punti di... in questo momento si dà addosso alla casta, alla casta politica, e la prima cosa si fa il finanziamento dei partiti. Quando poi sentiamo che dall'altra parte lo stesso Bersani fa un altro tipo di discorso, dire ma non è possibile che la politica lo possano fare... La chiamata democrazia. Sì, altre cose lo possono fare soltanto i ricchi. Vogliamo dire, noi nell'ambito, sento dire da Petraroia, sotto alcuni punti di vista, che lo sto seguendo veramente con grossa attenzione per quanto riguarda tutti i riferimenti storici o d'altro, sento dire da Petraroia, da Petraroia, dice ma vendola sotto alcuni punti di vista non si è posto sotto questo. Ma vendola, Monti lo ha stagiato sotto tutti i punti di vista, solo sotto un punto di vista non lo può stagiare. Quello di fargli mancare i voti nel Parlamento perché non ce li ha. Cioè, questo è un altro tipo di discorso. Ma qui, su questo discorso dei primari, si sta facendo un calderone di carattere generale che c'è tutto e il contrario di tutto da ambo le parti. Allora, torno a ripetere, sotto questo punto di vista qui, quando io mi sento a dire che da parte di Renzi che era nato sotto il discorso perché Renzi nell'immaginario correttivo è passato con Rottamatò. Renzi, sotto un punto di vista io riconosco pure il discorso di dire, di fare, di ritornare a vertroneana memoria quello dell'autosufficienza, quello di dire come autosufficienza, quell'autosufficienza che salvò in alcuni momenti decise la morte del Partito Socialista e salvò l'Italia dei Valori perché poi la storia non ce la dobbiamo dimenticare l'autosufficienza vertroneana quando disse vado da solo ce lo ricordiamo quando disse vado da solo e non portò dentro i socialisti però all'ultimo momento portò dentro l'Italia dei Valori. Vogliamo ritornare sull'autosufficienza? Fatelo tranquillamente io posso soltanto dire ciò che appartiene al mio partito. Noi, io oggi sono stato a Roma durante la settimana verrà chiuso il discorso per la lista per l'Italia verrà chiuso il discorso per la lista per l'Italia noi credo che al 99% per quanto riguarda essendo fuori dai due blocchi a livello parlamentare presenteremo la nostra lista per l'Italia questa lista per l'Italia molto probabilmente non avrà neanche più il simbolo dell'UGC ci saranno convergenze convergenze che in questo momento che possono passare da Montezemolo a Riccanti a Bonanni o ad altro cercheremo di fare un nostro progetto però è un progetto che certo dal punto di vista quando gli altri ci dicono che non vogliono stare con noi io mi sono stancato di ripetere non vi preoccupate non è che non volete stare con noi non ci vogliamo stare neanche noi perché le ideologie che non esistono più non ci prendono le cose io non posso sentire dire i diktat i diktat con l'Udc per bene con l'Udc non per bene dopo che voi vi siete presi dentro dopo che voi vi siete presi dentro come leader uno che per 11 anni adesso ci vedete a fare il moralismo nei nostri confronti questo non lo permettiamo nella maniera più assoluta io ho il mio pazzo di replica poi penso che forse una volta velocemente prego Fane nessun giudizio morale nessun giudizio moralistico mi sembrava assolutamente aver fatto un discorso nazionale generale guardando a una proposta che era capace di essere il più possibile autosussistente quindi capisco l'accaloramento di Pietro ma l'ha fatto più di Pietro sul discorso regionale io lo capisco anche nel suo accaloramento perché poi questo refrain posso anche capire che poi diventa stucchevole quindi non capisco anche che sia a calori però deve anche aspettarsi che nel momento in cui si parla di trattative c'è qualcuno che esprime un gradimento e c'è qualcuno che esprime un mancato gradimento fa parte della politica ma deve essere bilaterale il discorso ma fa parte della politica ma noi per parte nostra abbiamo detto poi hai aggiunto tu per parte tua e siamo a posto quindi non è andate d'accordo non sembra strano che qualcuno in politica parli di matrimoni e di alleanze o di graditi o di sgradite alleanze però che ha acceso la miccia è stato Cristiano Di Pietro quindi condividete insomma noi non vi vogliamo nemmeno noi ci prendiamo un caffè a Montenero ma la politica la politica è un'altra cosa no no non te ne sono d'accordo la politica è un'altra cosa che poi volevo aggiungere una cosa in clima di metodi che portano a ricomposizione le primarie sono quello che per antonomasia democraticamente abbiamo scelto come centrosinistra per arrivare a mettere insieme le nostre anime diverse in un sistema democratico stiamo ancora cercando di capire qual è il sistema democratico del centrodestra di cui mi pare che tuttora faccia parte Teresio Di Pietro no fammi dire tu hai parlato hai parlato hai parlato ora vogliamo capire qual è il sistema democratico che hanno utilizzato nella regione molise e che stanno utilizzando tuttora nella regione molise e circa le divisioni o i contrasti o le divergenze mi pare che in questo momento regna sovrano l'insegnamento del centrodestra non abbiamo mai visto in questa regione delle spaccature così profonde con un UDC che una parte guarda a uno strabismo non di venera uno strabismo particolare una parte guarda di qua una parte guarda al centro una parte guarda di là con il PDL sfracassato fra le mazzate fra il segretario Iorio Vitaliano Fitto che viene per commissariare alla riunione di Fitto del commissariamento non ci va nessuno assistiamo a altri pezzi mi sembra l'Udeur l'ADC che hanno detto chiaramente che loro stanno fermi e guardano ma sicuramente il presidente Iorio non lo gradiscono però è attenta anche da quell'altra parte mi sembra che in questo momento storico il centrosinistra democratico che si dà delle regole per cui ognuno è legittimamente portatore di una visione e che ricompone sotto chi vince le primarie nazionali che poi il metodo che vorrei ricordarti lo abbiamo utilizzato anche a livello regionale per arrivare al medesimo risultato perché in democrazia si fa così non va bene invece in un centrodestra normalmente abituato dal diktat che arriva dall'altro c'è un momento di frittata collettiva e quello può essere corretto non dimentichiamo neanche di Romano e di rifondazione comunista così se vogliamo parlare soltanto dei problemi del nostro interno ma i problemi pure i problemi che abbiamo i problemi noi cerchiamo io vi vorrei vedere poi se nel Lazio andate insieme come si è paventato io non ne faccio né una questione personale né ovviamente una questione collegata alle vertenze momentanee in singoli territori ci saranno degli accordi stanno valutando io per parte mia a livello locale vedrei molto meglio una chiara composizione nel centro-sinistra piuttosto che delle artificiose alleanze che oggettivamente ma anche per coerenza che loro devono mantenere così anche le province tesoro ma ci dovevamo parlare di più un attimo solo ricorsi e ricorsi storici Petraroia infatti però debbo dire già che Di Pietro dice ascolto Petraroia attentamente secondo me questo è un dato importante ho ascoltato veramente con grusso cioè sotto il punto di vista direttamente storico bisogna dare c'era il discorso dare a Cesare quello che dice su questo non ci sono problemi cioè tra l'ascoltare e condividere ce ne passa però già l'ascoltare già credo che sia una cosa importante già c'è una maturità prego io intanto volevo fare volevo dare un contributo a questa discussione a livello nazionale nel partito democratico nel centro-sinistra c'è stato un dibattito come diceva anche Michela lo abbiamo risolto chiamando il popolo del centro-sinistra a scegliere una linea ma non ci siamo mai voluti ridurre come partito a un luogo dove ci sta chi comanda o magari ci dà le dritte viviamo di democrazia e di confrondo voglio anche dire che laddove Renzi era portatore di una impostazione che c'è nel partito che arricchisce che lo rende più forte il partito più di matrice liberal-democratica mentre quella di Bersani è più di matrice socialista e democratica alla fine ha vinto Bersani ma non ci dobbiamo sorprendere il reverendo Jesse Jackson che si è candidato per 40 anni alle primarie del partito democratico americano aveva delle posizioni di gran lunga più a sinistra di quelle di Fausto Bertinotti ma quando si andava a votare perché vinceva Carter o vinceva Clinton era il primo che saliva sul palco e invitava gli elettori a votare per Carter o per Clinton anche se nel dibattito interno stava su posizioni più a sinistra se uno va in Inghilterra nel partito laborista ci sta ancora la corrente dei trotschisti ci sta la corrente dei sindacati e poi ci sta la corrente di Tony Blair ma quando si misurano all'interno finisce poi ci sta un voto e quella diventa la linea di tutti in Italia si sta provando a costruire un grande aggregato che è il partito democratico il primo partito nazionale c'è stata questa articolazione o alla fine c'è stata una sintesi che si è trovata su Bersani Bersani che dice sui contenuti mi pare che è stato chiarissimo ha inglobato anche le proposte che venivano dagli altri interlocutori in particolare da Vendola su Vendola risposta a chi cercava di sminuirne anche la capacità di governo che Vendola sono otto anni che fa il governatore di una delle regioni più importanti d'Italia e lo fa bene tant'è vero basta andare a vedere le cose che sono state fatte in buia quindi non è vero che non c'è responsabilità capacità risultati per altro verso Bersani poi però noi ci mettiamo che gli regaliamo pure l'acqua dal Molise alla Puglia Bersani sulle alleanze che cosa ha detto dice il campo dei progressisti non è sufficiente per governare il paese e quindi ha lanciato una proposta ieri sera quando ha parlato dopo i ringraziamenti e le altre cose ha detto io rilancio da qui la proposta di costruire in Italia un campo che vada oltre quello dei progressisti che ci aiuta a superare il 50% degli elettori che non vanno più a votare e le forze anti-europee anti-sistema perché il passaggio è delicatissimo e non si può immaginare che da soli sia la forza per superare i problemi perché quei lavoratori esodati i disoccupati coloro che hanno problemi noi non è che miglioriamo la loro condizione semplicemente enunciando il problema vanno cambiate le politiche ma vanno cambiate le politiche europee e ci vuole una base di consenso che sia più ampia nel nostro paese ormai il PDL si è sfarinato di lì non ci verrà una proposta dall'altra parte le forze anti-sistema cosa dicono Grillo dice fuori dall'Europa ritorniamo alla lira ma con queste proposte noi andiamo a danneggiare i ceti popolari quindi la soluzione passa per il campo dei progressisti che si è riorganizzato con le primarie e con la capacità di saper dialogare e valorizzare il rapporto con le forze di centro io andrei anche a Termoli per sapere anche insomma far intervenire Oreste Campopiano nel dibattito Sì io sto ascoltando con molto interesse gli interventi di tutti adesso ho sentito Michele Petraroia che fa dei giusti riferimenti oltre che storici anche a quello che è il sistema anglosassone però dobbiamo ricordarci che noi siamo comunque italiani e la nostra mentalità è un po' diversa da quella che è la mentalità delle lettore statunitense ricordo che la prima telefonata che Obama ha avuto a scrutinio non ancora chiuso è stata quella di Mitt Romney il quale ha fatto gli auguri al Presidente incoronandolo come Presidente degli Stati Uniti d'America parlando degli Stati Uniti d'America con un sentimento che va ben oltre quello che gli europei in genere ma gli italiani in modo particolare hanno nei confronti della loro patria e della loro nazione quello che mi sembra e non credo di dire un'idiozia che la politica ormai da un po' di tempo in Italia in stato assolutamente confusionale ci continuiamo ancora a parlare di centro-sinistra e di centro-destra oggi a mio modestissimo avviso non esiste più un centro-destra in modo particolare non esiste più il PDL ormai sono gruppi che cercano la zattera di salvataggio tra di loro tant'è che non sono nelle condizioni né di fare le primarie né di individuare né di indicare un leader specie se le elezioni si anticiperanno come sembra come sembra probabile almeno secondo quello che ha detto il Capo dello Stato da quest'altra parte effettivamente anche nel centro-sinistra esistono posizioni troppo differenziate ma credo che se non si fa prevalere come diceva Bersani proprio ieri nel discorso di saluto alla sua vittoria elettorale nell'ambito delle primarie e le ragioni di condivisione sulle ragioni di divisione io credo che non andiamo da nessuna parte e riperderemo tranquillamente le elezioni come spesse volte è capitato nell'ultimo ventennio almeno per la sinistra e per il centro-sinistra allora che cosa lo stesso discorso vale ovviamente per il Molise prima ho visto che si era acceso un attimo il dibattito sul nome di Paolo Frattura io voglio dire la mia molto modestamente per carità insomma io ritengo che noi dobbiamo partire da un dato nell'ottobre dell'anno scorso si è fatto si erano già fatte le primarie nel centro-sinistra era stato individuato Frattura come il candidato unico del centro-sinistra qualcuno si è sfilato e non avrebbe dovuto farlo già l'anno scorso si è fatta una campagna elettorale dalle urne è uscito un risultato che ho sempre ritenuto bugiardo ma comunque i numeri hanno dato sebbene in percentuale strettissima un qualche voto in più al governatore uscente Michele Iorio oggi credo che il confronto politico tra leader dovrà essere quello che è stato l'anno scorso le elezioni non è che si fanno per volontà politica o per volontà dell'elettorato molisano si fanno perché è stato ritenuto dal TAR e dal Consiglio di Stato e quindi dalla magistratura amministrativa che quelle elezioni non erano valide e quindi è stata dichiarata la nullità della proclamazione degli eletti del provvedimento di proclamazione degli eletti credo che non si debba discutere su questo perché se rimettiamo in discussione il nome dei soggetti che devono interpretare nuovamente il nuovo confronto elettorale di inizio anno ma io credo che perderemo soltanto inutili energie e ci disperdiamo inutilmente anziché parlare di programmi e di cose da fare il Molise in questi 11 anni sebbene all'inizio sembrava che qualcosa si volesse fare in realtà è stato di fatto desertificato desertificato il basso Molise in modo particolare il centro e l'alto Molise e noi da questo dato di fatto credo incontestabile dobbiamo parlare evidentemente quella classe politica che ha amministrato il Molise in questi 11 anni è una classe politica assolutamente fallimentare di quelli non ne dobbiamo più parlare ma più che non parlare di soggetti e di persone fisiche non possiamo più accettare quel metodo che è il metodo del faminismo che è il metodo della clientela che è il metodo della distribuzione di risorse a pioggia in maniera indiscriminata e senza un progetto vero un metodo che sta di fatto smandellando nel Molise lo stato sociale tutto ciò che prima c'era a difesa della gente del popolo molisano oggi delle certezze non ci sono più noi dobbiamo essere capaci e su questo tutto il centro-sinistra se si vuole veramente porre come forza di governo deve essere capace di dare un presente e un futuro ai molisani specialmente ai giovani ripartire da lì d'accordo grazie a Campopiano lo ha capito che forse se non cambia la legge il listino non ci sarà più ho visto una bella discesa in campo di Oreste Campopiano finiranno i listini maggioritari win for life chiamati da me io invece aggiungo si torna a votare sempre meglio meglio io sono per l'abolizione certo io invece dico si torna a votare sempre perché il Molise poi ci facciamo conoscere sempre a livello negativo cioè insomma si torna si sono annullate per due volte le elezioni il 20% non siamo nemmeno capaci di tenere insomma di compilare le liste di mettere a posto un po' la situazione facciamo delle brutte figure a livello nazionale insomma sbagliare il 20% delle volte insomma da quanto insomma per la decima legislatura mi sembra un po' troppo per questo Molise poi insomma quando andremo a piangere che ci devono dare i soldi al Ministero insomma basta anche l'usciere che dice ma non sapete nemmeno votare fa compilare le liste che cosa venite a chiedere i soldi io però concludo il discorso perché abbiamo interviste alla gente insomma che ne pensa poi la gente e i 100 secondi del direttore Pietro Remita insomma che ci fanno entrare definitivamente nell'aspetto politico puro prima delle conclusioni finali vediamo Bersani ha vinto e soddisfatto preferiva un gioco assolutamente no Renzi era number one non glielo saprei dire onestamente onestamente non glielo saprei dire Renzi forse è il nuovo che avanza Bersani deve svecchiare quello che ha tutto qua guardi sinceramente non ho granché visto queste primarie non ho molta fiducia nella politica ultimamente spero che cambiera qualcosa ho fiducia in Bersani e nient'altro staremo a vedere non seguo la politica perché oramai non la voglio più seguire non ci crede più neanche nei giovani nuovi che vogliono forse avrei creduto un po' a Renzi mi ero ripromesso di farlo però ora vedremo come va avanti e ci impegneremo nel campo della politica di nuovo ma guarda ce lo dirà solo il tempo Renzi i propositi probabilmente li aveva però se gli facevano fare i cambiamenti o che tipo di cambiamento farà avrebbe fatto insomma non come dire non lo sapremo mai per adesso quindi meglio Bersani diciamo di sì spero vada bene buona fortuna e speriamo che che ci sia un risultato positivo per i cittadini per il popolo italiano non mi interessa la politica perché non credo più nella politica una settimana che non poteva aprirsi se non con una prima riflessione sull'esito del turno iniziale delle primarie del centro-sinistra un voto che già domenica scorsa prefigurava la possibilità netta di un'affermazione finale del segretario del partito democratico Pierluigi Bersani in realtà però la buona affermazione soprattutto il molise del governatore pugliese Nichi Vendola qualche dubbio oppure l'aveva sollevato nel senso della ineluttabilità sulla successiva scelta che avrebbero compiuto gli aderenti a SEL sulla scena del primo turno delle primarie in casa del centro-sinistra il presidente del consiglio regionale sentendo sempre più intenso l'incenso delle imminenti elezioni ha pensato bene di convocare una conferenza stampa elettorale per il molise una norma che possa consentire un ravvicinamento dei cittadini alla politica stessa in settimane rimbalzata anche la notizia delle dimissioni resi dell'assessore alla programmazione Gianfranco Vitaliano quanto alla delega delle società partecipate della regione molise una rinuncia che giunge subito dopo le parziali soluzioni perso l'agrita e le zuccherificio ma che lo vedono recuperare immediatamente lo spirito decubertiano alla pericuazione che garantirà svariate decine di milioni di euro ai sindaci ai centri colpiti dal terremoto del 2002 nella settimana politica non possiamo non menzionare il missile lanciato sulla sanità regionale dal commissario governativo Filippo Basso il quale senza troppe remore ha tagliato 470 posti letto negli ospedali molisani chiusi di fatto quelli di Larino e Venafro e di tutte le postazioni di guardia medica su tutto il territorio più politica di così intanto è tornata in discussione la data delle elezioni regionali in quanto l'ex governatore del Lazio Renata Polverini come previsto aveva comunicato al ministero dell'interno la data scelta per le consultazioni nella sua regione ora tra 6 ma sarà il governo a dover decidere l'eventuale turno unico o il differimento a date da destinarsi la settimana si è chiusa con l'Istat che ci ha deliziato di un altro dato negativo quanto occupazione 2,3 in più su base annua e con l'Italia dei valori che a Boia hanno affrontato a convegno varie tematiche tra le quali biomassa e appunto occupazione e siamo a oggi ma questa è storia recente rieccoci tornati in diretta lo dicevo in apertura e continuo con Teresio Di Pietro dicevamo appunto che il 16 no che adesso si apre la vera e propria sfida elettorale il 21 dicembre si chiude questa legislatura a livello nazionale ovviamente ma io innanzitutto voglio prima di dare questa risposta io non volevo entrare nella maniera più assoluta sui nomi e su altri e tantomeno fare i nomi se è stato tirato fuori il discorso in nome di Paolo di Lavora Frattura è stata una risposta su una determinata situazione perché l'ultima cosa che faccio è quello di andare a giudicare l'operato degli altri nel momento in cui farò parte di una qualsiasi coalizione dirò anche la mia per quanto riguarda i nomi quindi questo è un discorso era soltanto una risposta ad una domanda adesso per quanto riguarda il discorso perché il 21 dicembre si dovrebbe chiudere in virtù se si va a votare il 10 cioè qui siamo in una fase io oggi credevo di avere il quadro un po' più chiaro essendo stato direttamente a Roma ho avuto un colloquio insieme ad altri con il segretario Cesa e devo dire francamente che a oggi credo che nessuno abbia le idee chiare di cosa possa accadere questa settimana perché molti ritengono che questa settimana sia decisiva anche per quanto riguarda la legge elettorale perché credo che la legge elettorale possa servire ad agrimaldello per aprire determinate situazioni anche per determinate alleanze però ad oggi ad oggi non c'era ancora questa certezza si continua a riparlare il 10 di febbraio per quanto riguarda un election day retroattivo sotto alcuni punti di vista dopo il 10 marzo adesso si risporterebbe al 10 febbraio e su questo c'è una richiesta esplicita da parte del PDL che chiede determinate situazioni che chiede se non si può fare il 10 marzo rispostiamo tutti al 10 febbraio naturalmente se si risposta al 10 febbraio andremo a votare tutti quanti con il Porcellum e allora io credo che sotto questo punto di vista molti non lo volevano ma tutti lo volevano e credo che alla fine sia da parte del PD che da parte del PDL ci sia la richiesta di andare a votare col Porcellum perché il Porcellum in questo momento può fare noi ce l'abbiamo la piccola cura che sono le primarie sì sì però le primarie voglio dire tutto quello che si dice adesso dobbiamo parlare con i fatti contingenti contingenti attualmente anche io con te ovviamente auspicherei una legge completamente diversa per dare voce però come correttivo interno noi abbiamo sempre detto che qualora restasse il Porcellum anche sui collegi di Camera e Senato si darà luogo alle primarie però se andiamo a votare il 10 di febbraio tutti questi discorsi lasceranno il tempo che trovo io poi voglio anche ribadire un'altra peculiarità che per quanto riguarda il discorso Molise perché noi per quanto riguarda in questo momento stiamo accomunando tutti insieme Molise Lombardia e Lazio voglio fare solo una piccola premessa Lazio e Lombardia sono un discorso a parte ci sono state delle dimissioni dimissioni che in 90 giorni sono passate già abbondantemente credo dalle dimissioni che era la fine di settembre nel Molise c'è qualcosa di diverso nel Molise siamo stati sciolti io dico ahimè in funzione di una sentenza ma le sentenze le si possono criticare ma le si devono applicare e le si possono impugnare altri tipi di discorso il tempo non c'è bisogno cioè io posso dire non mi piace quella sentenza però se sono condannato all'ergastro devo andare all'ergastro a meno che non abbia altri me allora per quanto riguarda il Molise il mio modesto pensiero che oggi come oggi la sentenza del Molise che che se ne dica perché un discorso è l'esecutività di una sentenza il discorso è se una sentenza può ancora o non essere impugnata io ritengo che la sentenza del Molise non può ancora essere può ancora essere impugnata e quindi non è passata in giudicata che è un qualcosa di diverso che una sentenza sia esecutiva perché una sentenza esecutiva anche in primo grado se tu sei condannato e la sentenza esecutiva se sei condannato al pagamento di qualcosa devi pagare salvo poi quindi ritengo che il Molise in questo momento ha questa peculiarità questa peculiarità perché nessuno oggi c'è ancora la possibilità per il Molise di poter fare sia azione revocatoria alla sentenza del Consiglio di Stato sia azione davanti alla Cassazione quindi voglio dire anche questo è un argomento da prendere ma al di là di questi tipi di discorsi invece Velardi si fa ancora Consiglio Giunta un po' di tutto ma lasciamo perdere ma lo se lo fanno anche i consiglieri regionali per dire quello per dire tutti se lo fanno tutti quanti perché comunque abbiamo la legge 2 comunque abbiamo la legge 2 cioè anche qui quando si fa generalizzare Cristiano Pietraroio non stanno usurpando assolutamente niente in questo momento loro sono ancora consiglieri regionali in virtù di una legge di una legge regionale non certamente viziata né tantomeno opposta ad altro quindi voglio dire io non me la sento molte volte di dare addosso loro in questo momento stanno facendo allora in funzione di questo io mi chiedo solo una cosa che in questo momento qui mi auguro che questa settimana ci si sblocca qualche cosa e si arrivi insomma perché andare a votare andare e tornare a votare e lo ripeto anche alle lettere noi non siamo il popolo del gazebo noi dicendo io soltanto no dobbiamo chiudere c'ho il merito di Teresio Di Pietro che mi viene sempre in mente non glielo dico mai quando in trasmissione è uno dei propri segretari regionali che fa davvero il segretario gli altri fanno segretare candidata cioè si inventano veramente di tutto invece un segretario da mio avviso mio modestissimo parere dovrebbe fare solo il segretario invece altri si candidano al segretario per apparire e poi fanno politica posso spaziare a 360 gradi perché non è nella mia mente quello di fare di nuovo il candidato perché nella vita di ognuno ci sono ruoli e ruoli in questo momento ho anche un altro ruolo ma nella vita di uno ci sono ruoli e ruoli quando il segretario non si deve candidare può spaziare a 360 gradi perché non deve mai pensare che uno di un'80 può fare ombra uno di un'78 però di solito quando si fanno queste premesse poi arriva la taccarata finale volevo dire per concludere ma Velardi in pensione ce lo mandiamo però dopo un po' ma io credo facciamo fare il segretario a Velardi ma stai facendo stai facendo anche tu il rottamatore questa sera no ma io credo che ce ne potrebbero essere tantissimi che possono andare in pensione dopo una certa età è una domanda che puoi chiedere direttamente a Velardi sì non viene mai le mie trasmissioni Arcolessi invece una domanda precisa dopo Monti è un po' difficile che si riesce a fare la legge elettorale non si sono fatte tante cose mi risponderà Rifondazione Comunista figuriamoci la legge elettorale in 15 giorni il porcellum è pessimo il porcellum è pessimo però sembra linguisticamente scorretto ma è peggiorabile diciamo che in questo Parlamento ci sono tutte le competenze per peggiorare il porcellum e diciamo che una legge elettorale fatta in articolo mortis cioè fatta 20 giorni prima della chiusura dell'assemblea legislativa è una legge elettorale che molto probabilmente porta il marchio non diciamo di un equilibrato di ridare un equilibrio all'ordinamento al rapporto tra politica e società ma porta il marchio di una volontà di ingabbiare la politica ancora di più di blindare il risultato elettorale di come dire di precostituire il risultato anche l'argomento che bisogna fare la legge elettorale per sconfiggere Grillo per quanto poco simpatico mi possa essere Grillo è assurdo è un argomento perché Grillo va sconfitto politicamente non va sconfitto sterilizzando quei voti ci dovremmo per altro chiedere se l'innamoramento del bipolarismo e del maggioritario che ci proviene diciamo dalla crisi della prima repubblica non sia in qualche maniera in relazione con il distacco della politica io credo di sì cioè io credo e del resto ci sta pure un ampio studio su questo tanta gente non va a votare perché non trova l'offerta politica corrispondente alla sua come dire idealità alla sua identità culturale e ai suoi interessi concreti io credo che il bipolarismo e il calo della partecipazione politica sono in stretta relazione l'uno con l'altro quindi se si va a fare una riforma che blinda ancora di più che diventa peggio della legge acerbo fatta dal fascismo cioè il premio di maggioranza che non è manco premio di maggioranza è dato al primo partito perché? che senso ha? questa era un po' la domanda almeno la legge acerbo fissava che ci doveva essere un tetto minimo quella fatta dai fascisti per prendersi la maggioranza appunto questa soglia almeno per modificare la legge elettorale la soglia di sbarramento di percentuale secondo Petro si riuscirà a fare almeno ma io mi auguro che il Parlamento nel corso di queste ultime battute riesca a convertire una serie di provvedimenti che mi sembrano imbantanati il primo dovrebbe essere quello della riduzione dei costi della politica del taglio dei compensi le internità i privilegi perché questo è fortemente atteso dai cittadini poi ricordo che c'è il riordino delle amministrazioni locali c'è la delega fiscale e spero che nel corso di questi giorni prima che termini la legislatura alcuni di quei provvedimenti che parlano alla razionalizzazione e al risparmio possono essere portati a compimento per quello che attiene la legge elettorale a mio avviso se si riuscisse a dare un correttivo per restituire la sovranità al popolo come recita la Costituzione e quindi rimetterne le mani delle persone che quando vanno a votare devono poter essere loro a indicare il rappresentante in Parlamento perché il distacco della politica di cui parlava ora Silvio Arcolesse dipende anche dal fatto che a Roma decidono sulla base dei collegi le persone da fare eleggere oppure no e quindi chi viene eletto non ha più bisogno di rapportarsi con l'elettore tanto è vero che in Molise ci stanno come deputati alcuni soggetti a partire da Silvio Berlusconi che durante l'intera legislatura non sono mai venuti a rendere conto a chi lo ha votato non so se per fortuna o per sfortuna sta di fatto che nella storia quando c'erano i parlamentari o della democrazia cristiana o socialisti o comunisti se venivano eletti in un collegio ognuno per le proprie idee andavano in quel territorio e cercavano di mettersi a servizio delle necessità allora se si riuscisse anche in questo ultimo pezzo di legislatura a raccogliere il monito del Presidente della Repubblica e a riformare la legge elettorale per rimettere nelle mani dei cittadini la scelta di chi deve andare in Parlamento secondo me si farebbe una cosa estremamente saggia ultima questione e ho la sensazione che tra il dibattito che si sta facendo e i drammi che ci sono in questo paese la crisi del lavoro le difficoltà mancano i soldi cioè tutti quanti fanno dei discorsi bellissimi e si dimenticano però un piccolo particolare chi paga dove andiamo a prendere i soldi per risanare le casse di questo paese assicurare le tutele e far ripartire l'economia allora stiamoci attenti che ci può essere un effetto balcanizzazione in Parlamento se noi non ci stiamo attenti da qui a due mesi un mese quando si voterà se verrà fuori un Parlamento ingovernabile dove nessuno potrà avere una maggioranza andremo a finire che perderemo tutti di sovranità non saremo in grado di gestire i processi ci imborranno dall'esterno come è successo in Grecia un Presidente del Consiglio che evidentemente sarà in linea con il Fondo Monetario che ci imborrà le scelte allora stiamo attenti perché la governabilità del sistema chiunque vada a vincere è fondamentale per realizzare il programma sapendo che la politica che sceglie e che risponde non sono soggetti sovranazionali le ha rubate molto tempo ma per questa sera siete andati insieme Bersani a vendola le primarie quindi deve parlare di meno lei Nico Ioffredi c'è qualcuno che ha detto che Berlusconi ha stappato lo champagne ieri perché dice si è rimesso in campo Bersani perché non lo debba fare io Grillo dice che ne ha aperte addirittura tre o quattro di bottiglie perché dice ma con Bersani sicuramente io quando avrò 100 parlamentari ma facciamo 120 perché insomma è l'antipolitica è così o non è così anzi perché non è così non è una domanda auguriamogli che gli vadano di traverso diciamo queste bottiglie di spumante che hanno aperto io al di là delle battute delle bottiglie di spumante che abbonderanno pure in casa Berlusconi e in casa Grillo credo che l'appello che bisogna fare agli elettori perché la responsabilità non dimentichiamo che il voto è un diritto e dovere non è soltanto un diritto e non è soltanto un dovere la responsabilità che hanno gli elettori in questo in questo momento storico dell'Italia è elevatissima ricordiamo che chi non vota praticamente ha votato per chi vince è un concetto di aritmetica elementare non è un'opinione politica e come abbiamo sentito nelle interviste poco fa che avete mandato più di qualcuno ha avuto l'atteggiamento di dire io con la politica no no non è disinteresse è proprio è proprio alteriggia è proprio non voglio sporcarmi le mani con la politica niente di più sbagliato si può cambiare si può cambiare e soprattutto ringraziando il Dio abbiamo una legge elettorale in ambito regionale che ci dà la possibilità di scegliere fra tante persone e non soltanto chi viene imposto tra tanti partiti che fanno parte tutti quanti delle principali coalizioni cerchiamo di fare le scelte oculate cerchiamo di mandare a casa i professionisti della politica che stanno lì da tanti anni e che ormai come dire ringraziamo per l'apporto dato finora e adesso tornino a lavorare come abbiamo fatto tutti quanti per tanti anni Bersani è da tanti anni che sta in politica ma Bersani è uno che è passato dal consiglio comunale al consiglio regionale ha fatto tutto il percorso questo è un discorso quelli che invece prendono possesso di una poltrona e non si tolgono più e poi magari capita pure di sentire il loro cognome tanto spesso nei reparti ospedalieri nelle varie stanze della regione e in tanti altri posti comincia a venire il sospetto che sia arrivato il momento di ringraziarli per quello che hanno fatto per questa regione e mandarli via Arcolessi mi viene una domanda però mi deve rispondere in 30 secondi perché guardo due ex segretari della CGL insomma ho proprio questo di fronte ho questa immagine la CGL in questo momento si è schierata con Bersani lei ha qualcosa da ridire insomma da ex segretario di questo nuovo sindacato mi sembra che negli ultimi mesi sia un po' venuta meno ci sia una caduta di autonomia da parte del sindacato diciamo così ma dove si beccano più Arcolessi e Petraroli c'è una caduta di autonomia e ci fermiamo qua voglio dire di Vittorio di Vittorio riusciva a dire di no a Togliatti ecco forse la Cambusso potrebbe dire qualche volta di no a Bersani d'accordo da quest'altra parte siamo veramente in conclusione Cristiano Di Pietro insomma sta finestra l'Italia dei Valori ormai la deve rompere il vetro lo deve rompere si apre la vera sfida elettorale papà a livello nazionale Cristiano a livello regionale sono pronti con io vedo le sue spalle questi carri armati che sono della nostra scenografia del comune di Campobasso insomma della guerra a Campobasso insomma sono pronti anche per l'Italia dei Valori noi dell'Italia dei Valori a livello nazionale sicuramente cercheremo di creare un governo alternativo alle politiche di Monti e lì sarà impegnato il partito in questa lotta in questa preparazione delle liste certo speriamo che il Porcellum se ne vada perché ne abbiamo letti tanti di Porcelli noi per quanto riguarda invece a livello locale l'Italia dei Valori sarà con frattura per un cambiamento reale di tutte le politiche che vanno dalla sanità all'industria al lavoro però il PD dice che si devono fare le primarie anche per il candidato presidente siamo pronti a fare le primarie e appoggiare frattura alle primarie questa è l'Italia dei Valori oggi con la massima lealtà su frattura la massima lealtà nel centro-sinistra e sicuramente non vorremmo abbandonare mai più questo dialogo che abbiamo iniziato con il centro-sinistra a livello regionale che prima ce ne siamo dati talmente tanti che abbiamo perso in tutte le situazioni da Montenero alla provincia adesso abbiamo trovato il dialogo non lo vogliamo assolutamente lasciare abbiamo chiamato papà quando era il compleanno in un'altra trasmissione è il compleanno suo ha detto ieri il compleanno tuo oggi o ieri quando è? si ricorda no no stava dicendo che ieri è stato il mio compleanno si ricorda anche quando è il compleanno italiano grande memoria siamo da ragazzino grande memoria però dicevo il compleanno invece di Antonio di Pietro facciamo il collegamento gli abbiamo dato gli auguri proprio in diretta però le asinelle non si è venuta a vedere le asinelle dovevo vedere hanno fatto le foto sì l'abbiamo persa questa devo ammetterlo lui diceva io voglio chiudere in Molise è troppo presto per queste regionali questo giro mi ha detto io come dove ho iniziato per adesso abbiamo un buon candidato è una battuta proprio in dialetto di Montenegro come disse per adesso abbiamo un buon candidato che è Frattura vedremo in futuro che succederà perché però il PD vuole fare le primarie non va bene Frattura è passato poco tempo non è proprio così il PD ha detto che per voce del segretario insomma ha espresso quando parla insomma ha espresso chiaramente una posizione di necessaria unità del centro-sinistra e della possibilità di avere il metodo delle primarie per recuperare eventuali frazioni frizioni esistenti mi sembra che però non servano e non stiano servendo e quindi la mia opinione personale è stata sempre quella di andare direttamente in campagna elettorale perché avevo l'impressione che le avevamo fatte queste primarie quindi non vedevo l'utilità di raggiungere un allungamento dei tempi anche perché io sono convinta che Paolo le ha vinte e le avrebbe rivinte per cui rispetto a un inutile a mio modo di vedere allungamento dei tempi della competizione mi sembrava molto più utile personalmente entrare in campagna elettorale anche perché se poi scherza troppo con queste primarie qua ha rischiato già aveva Bersani Renzi e ha rischiato figuriamoci se le vuole rifare poi non è che può perdere pure il posto da segretario qui gli è andata pelo pelo si può dire Teresio Di Pietro nel centro-destra non si fa in tempo a fare queste primarie Di Giacomo ha detto il 16 dicembre ci riuniamo tutti i quali è un problema se sotto l'albero di Natale non so se si vuole riunire il problema centro-destra è un problema che al segretario regionale dell'Udc non interessa no che non interessa nella maniera più assoluta non sarei un ipocrita a dire io sono di un partito di centro alleato nel Muniz nel centro-destra ma qualcuno mi può dire ma nelle marche state nel centro-sinistra in qualche allora io come partito di centro in questo momento qui tengo a precisare che in questo momento la cosa più importante che stiamo cercando di fare essendo fuori dai due blocchi a livello politico è quello di continuare a tenere la nostra autonomia per quanto riguarda il discorso di carattere prettamente regionale stiamo valutando attentamente stiamo valutando attentamente l'evolversi dei fatti ma non questo vorrei far ritornare alla mente la craxiana memoria della politica dei due forni o di chi ci offre di più o di meno nella maniera più assoluta stiamo valutando attentamente anche con la segreteria nazionale perché credo che in questo preciso momento non sarà permesso di poter fare accordi a macchia di leopard se si andrà a votare in unica soluzione in tre regioni credo che ci sarà un discorso unirico per tutte e tre regioni però ho detto una cosa molto forte prima addirittura si potrebbe perdere il loghetto udc io non ho detto per perdere il loghetto per quando c'è questa possibilità c'è una possibilità non di perdere il loghetto c'è questa possibilità che la lista per l'Italia se qualora sia come sembrerebbe che si vada per la lista per l'Italia in cui ci sia questa cioè con questa convergenza con Montezemolo con l'area delle Acli con Bonanni con Riccardi e con altri significherebbe non un udc allargata ma un progetto politico un soggetto politico ex novo in cui fermo restante che la parte cioè la colonna portante rimanga l'udc d'accordo Oreste Campopiano invece quale loghetto utilizzerà per le prossime regionali? ma io sono allora innanzitutto volevo condividere l'intervento del professore Arcolessi che mi è sembrato assolutamente concreto e preciso per quanto riguarda il loghetto che condivide Oreste Campopiano non è che che ha grande importanza Oreste Campopiano vorrebbe collaborare insieme a tutti quanti gli altri e anche oltre i loghetti a dare qualche cosa per questa terra che è tanto vituperata e che è tanto ha necessità di una classe di leggenti diversa e rinnovata questo è il loghetto che vorrebbe utilizzare Oreste Campopiano d'accordo e noi ci fermiamo qui io ringrazio davvero tutti gli ospiti che sono intervenuti ringrazio Giovanni Cannarsa Oreste Campopiano per la diretta da Termoli vi ricordo le repliche vanno in onda anche domani pomeriggio insomma sono possibili però le potete visionare quando volete sul nostro sito internet appunto molisetv.com basta cliccare nella sezione programmi e rivedere tutte le puntate insomma che abbiamo trasmesso noi ci rivediamo lunedì prossimo abbiamo sforato leggermente con il telegiornale che riproporremo fra qualche istante grazie e arrivederci grazie a tutti Grazie a tutti.